... Maurizio Nichetti, regista di Agatha e Ulisse, ci racconti questa fiction? Beh, intanto è una fiction per famiglie, divertente, dove si parla di fantasma, di amore, di magia, per cui quando la magia si sposa con l'amore, penso che sia una bella serata. Che differenze ci sono? TV e grande schermo? Ma niente, perché è sempre un lavoro entusiasmante, bisogna farlo con grande serietà, io poi lavoro sulla commedia, per cui per me è importante che la gente si diverta, oggi ho la possibilità meravigliosa di vedere un film per la televisione in una sala cinematografica, per cui verifichiamo se le risate arrivano anche in una sala, perché quando la gente lo guarda a casa sua è difficile valutare le risate, si può valutare l'audience, ma non il gradimento, mentre invece qui in sala oggi vedremo chi ride e chi non ride. Grazie. 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 Grazie.